Piogge torrenziali e venti fortissimi, il tifone Sulik è passato così su Taiwan. Ancora incerto il bilancio delle vittime e dei danni causati dal tifone. Le autorità di Taipei danno la notizia di una sola vittima accertata, mentre è altissimo il numero degli evacuati, circa 8500 persone. E lo stato d'allerta passa adesso alle province cinesi del Fujian e Zijiang, dove Sulik starebbe passando in queste ore. La compagnia aerea cinese avverte i viaggiatori in arrivo, in partenza dalla Cina, di possibili ritardi e cancellazioni. Pechino, già piegata dalle piogge torrenziali della scorsa settimana, che hanno provocato 36 vittime, ha dispiegato l'esercito per aiutare la popolazione colpita.